Buongiorno a tutti, io sono Paolo, appassionato del mondo finanziario ed ho oramai 10 anni nel mondo dei dati. Non sono un consulente finanziario, il mio obiettivo è dare degli strumenti per prendere decisioni. Infatti molti video di YouTube forniscono spunti interessanti all'investitore medio, ma pochissimi forniscono strumenti al fine di rendere queste analisi riproducibili e permettere quindi all'ascoltatore di replicarle in maniera autonoma. L'obiettivo che mi spinge qui è quello di condividere i risultati a cui sono giunto, condividendo anche gli strumenti quantitativi utilizzati. Una volta capiti, vi permetteranno di svolgere le analisi in completa autonomia in maniera molto efficace ed efficiente. Vi condividerò qualche analisi sotto forma di slide e il codice utilizzato. Ci sporcheremo quindi un po' le mani, analizzando le metodologie statistiche utilizzate e il codice presente in Google Colab. Uno strumento molto utile che potete fare girare sul vostro PC senza alcun tipo di installazione. In questi video cercheremo di comporre un portafoglio di ETF diversificato per settore, categorie di investimento, quindi equity, fixed income, commodities e area geografica. È necessario tenere tutti questi cluster per una corretta diversificazione? Tramite la correlazione cercheremo di rispondere a questa domanda, rimuovendo le potenziali ritondanze in base alla loro somiglianza e valutando poi gli ETF restanti in termini di rischio e beneficio. Iniziamo dunque con i dati dei vari ETF che ho recuperato da internet. Il set di dati presenta informazioni su diversi fondi statunitensi negoziati in borsa, suddivisi in diverse classi di attività e settori. La maggior parte dei fondi rappresenta investimenti in titoli azionari di specifici settori dell'economia, ma ci sono anche ETF che investono in obbligazioni, materie prime e mercati internazionali. Come dicevamo, l'obiettivo è quello di capire come costruire un portafoglio non ridondante e capire come questi singoli ETF si relazionano l'un l'altro. In altri termini, capire quanto sono correlati da un punto di vista statistico. In questa slide abbiamo plottato questa matrice di correlazioni che si chiama in gergo heatmap, perché più elevata è la correlazione, più calde e chiare sono le celle. La correlazione varia da meno 1 a 1, dove meno 1 indica una relazione perfettamente inversa e 1 invece perfettamente positiva. Più questo valore è alto, più sono somiglianti due particolari ETF. Quindi, come si può vedere, abbiamo un range di correlazione ampio che va da un massimo di 0,99 a meno 0,35, dato che rappresenta la relazione tra i bond maggiori di 20 anni e il settore finanziario. Altri settori che mostrano una correlazione negativa sono gli ETF e i treasury bond e gli ETF azionari. Questo potrebbe significare che in situazioni di incertezza economica, gli investitori tendono a spostarsi verso asset più sicuri, come i treasury bond, abbandonando investimenti dischiosi come le azioni. L'oro è un altro asset che è considerato un bene rifugio, non mostra alcuna correlazione con gli altri ETF azionari, mentre ha una debole correlazione con i treasury bond, considerati anch'essi come bene rifugio, e con i bond indicizzati all'inflazione. Abbiamo quindi una matrice molto densa, con 27x27 valori. Per rendere questo tipo di analisi più esplicativa, si può ricorrere allo ierarchico e clustering. Questa è una tecnica statistica che ci permette di raggruppare gli ETF in base alla loro somiglianza. In questo modo possiamo evitare di investire in strumenti che non danno valore aggiunto in termini di diversificazione. L'output di questa metodologia è rappresentato da questo grafico ad albero, dove sull'asse delle ordinate è riportata la distanza tra i cluster e sull'asse orizzontale vengono riportati i vari dati in ingresso. Si nota ad esempio di quanto breve sia la distanza tra MSC Europe e MSC Europe Asia Enfarist. La distanza in questo caso sarà pari a 1 meno la correlazione che abbiamo visto prima tra i due, quindi 0,01. Questi due ETF chiaramente sono molto correlati perché hanno praticamente gli stessi sottostanti. L'unica differenza è che il secondo include anche Giappone e Australia. In generale tutti gli ETF a componente geografica sono simili, tranne gli Emerging Markets, che come vedete fanno un cluster a sé. Un altro cluster interessante è rappresentato dall'ETF Healthcare e Consumer Defensive. Si vede invece come l'oro sia molto distante da tutti gli altri gruppi, questo per la bassa correlazione che presenta con gli altri asset. Gli step ulteriori del processo consistono nel sancire una soglia di distanza, al di sotto della quale vengono aggregati i vari ETF, cluster che potete vedere evidenziati con i diversi colori. In particolare il threshold scelto è stato 0,14. Per ciascun gruppo generato, in quanto composto da ETF simili, verrà selezionato solo l'ETF con il ritorno più elevato. Ad esempio vediamo che dei cluster composto da ETF Technology, Consumer Cycle e Communication verrà preso il primo in quanto a maggior ritorno, a discapito degli altri. La seguente tabella, eliminati gli ETF ritondanti, calcola le principali metriche di performance per ogni singolo strumento finanziario. La tabella è ordinata per rendimento annualizzato. Possiamo quindi trarre come insights che il settore della tecnologia ha un rendimento annuo elevato, ma anche una volatilità e un rischio più alto rispetto ad altri settori. Al contrario, il settore della sanità ha un rendimento annuo solido, ma un rischio relativamente più basso. Per quanto riguarda il mondo obbligazionario, si nota come l'ETF a yield rappresenti un buon rendimento rischio rispetto agli altri ETF obbligazionari. Tuttavia va detto che l'ETF a yield è maggiormente correlato rispetto al mondo azionario. Al contrario dei treasury bond di varia duration che invece risultano correlati inversamente. Nell'ultimo grafico invece notiamo il ritorno per ogni ETF anno. Si vede quindi che il settore tecnologico è stato il migliore per tre anni, considerando anche il periodo Year 2 dei 2023. Sono anche nel settore energetico. Quest'analisi che vi ho condiviso saranno da voi riproducibili cliccando nel link qui sotto. Questo vi farà accedere alla piattaforma Google Colab con annesso codice. Vediamo ora come potete utilizzare tale codice a vostro uso e consumo. Quindi cliccate sul link in descrizione. Vedete che le prime celle sono composte da librerie e funzioni che vengono utilizzate per le stime successive. Questa invece è una cella che carica il foglio Excel con tutti i dati relativi a ticker, ter, broker, settore, presenti a loro volta in Google Colab. In questa cella vengono caricati i prezzi ed è proprio qui che potete essere liberi di ridurre o aumentare l'orizzonte temporale a vostro piacimento. Questa cella, invece, ha solo l'obiettivo di mostrare la differenza tra prezzo senza considerare i dividendi e prezzo che invece li considera. Questo grafico rappresenta il ritorno a partire dal 2010 fino ad oggi considerando le due diverse casistiche. Altro punto dove si possono modificare i parametri è il seguente, dove potete calcolare le correlazioni tra gli ETF su un range temporale più corto. Io, ad esempio, ho utilizzato gli ultimi 4 anni. Distance Threshold è un altro parametro che potete modificare al fine di aggregare gli ETF considerando una distanza e quindi di somiglianza maggiore o minore. Per esempio potete inserire il valore 0,2 che aggregerà tutti i cluster con una correlazione maggiore di 0,8. Infine, abbiamo questo grafico dinamico che rappresenta gli ETF considerando volatilità e ritorno annualizzato. Considerando come dimensione, quindi come dimensione delle bolle, la capitalizzazione di mercato. Questa sezione di ETF sarà la base per i successivi video riguardo la gestione della locazione di portafoglio. Spero questo video possa essere stato utile. Scrivete nei commenti per qualsiasi dubbio o domanda.